E' dedicato alla vita di Don Dante Sabinis, sacerdote della gioia, il libro del giornalista Luciano Regolo, che è stato presentato a Catanzaro nell'Aula Santi Petri dell'Arcivescovado, nell'ambito della giornata dei giornalisti cattolici. Nel libro viene raccontata la storia di Don Dante, parroco catanzarese scomparso nel 2006, che ha lasciato un'impronta indelebile negli uomini di fede come nello stesso Regolo, che ne è stato figlio spirituale. Don Dante Sabinis diceva spesso che lui si era sposato con la Chiesa, la mia sposa, la chiamava proprio così, festeggiava ogni anniversario del suo sacerdotso. Questo amore per Gesù è palpabile e si proietta per gli altri. D'altra parte anche i più grandi mistici contemporanei, per esempio San Pio da Pietrelcina o la Sessa Natuzza Evolo, parlava di questo concetto dell'espansione d'amore, ossia se si ama il Signore, quell'amore passa attraverso la persona che sta parlando, che sta operando, eccetera, si espande di cuore in cuore. Quindi immaginiamoci come questo sia importante per un sacerdote. Io credo che la strada del sacerdotsozio dovrebbe essere unicamente frutto di questo amore e credo che Papa Francesco abbia contribuito moltissimo a richiamare questo essere sacerdote in quest'ottica e non in altre logiche. Spesso è intervenuto per dire di essere più semplici, di essere più umili, di non anteporre interessi di gruppi o personali alla carità o all'amore cristiano. Grazie per la visione!